Tutti stai met... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ho tirato la mappa, Tortello, ho chillato tutti! Tortello ho chillato tutti! Io, regà, non lo so che è successo. Bella a tutti ragazzoni, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono il Tortellone Nazionale e quest'oggi guardate chi c'è qui con me! Il pirata! Il pirata! Pirata Grax! Con il cappuccio amore, salve ragazzi! Siamo parlando di una tortella! Mamma mia! Un po' addirittura pure con la bandiera dietro, veramente la scocchia! Allora ragazzoni, quest'oggi cosa andiamo a fare? Allora, ve lo spiego brevemente. 13.000 il punteggio da raggiungere ragazzi, 19 trofei ci mancano. E poi, ragazzi, ve l'avevo detto, il Mega Cestopening si è spostato, questa è la terza parte camuffata. Pluff! Allora, Tortello te lo dico, metti il pronto che partiamo, mentre carica, se trovi un brawler, cambi nome. Cambio nome, eh, devo trovare il leggendario, ci metto Torti Leggenda. Torti Leggenda. Io vi consiglio tutto quanto l'episodio, mo' ci fanno queste partite alle easy. So arrivato a quasi lo 0,15% per trovare il leggendario. È tosta qui, eh? Eh, stavo un po' incastratelli. 0,15? Stai messo via, benino, non male. Oh, l'ho beccato il Daina. Bravo, quanto mi piace il Babbo Mike. No, Babbo veramente bene, eh? Mi piace molto. Questa è una partita tosta, perché non ho ancora mai colpito, il Dara Mike, stai lì pronta a colpirmi. No, ma non so addostare il primo. Non sai che sta? Eh, sta nascosto. Sta nella parte basso. Guardate, questo fa l'agguato, sicuro. Spara là, spara là, che non c'è sta. Sono andato, va bene, va bene. C'è un po' fuori. Anche una seconda sarebbe, wow, guarda lì, se becca tutti quanti rovetti. Lo stato sta, ecco. Non vorrei che il nostro team fosse quello ad uscire prima. No, 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 eh? Uh, l'ho preso. Grande, ma solo Spike. Uh, mamma mia, c'è un RAPS. Mamma mia, c'è un RAPS. Oh zio, oh zio, 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 quanto c'ha? Oh dai, è morto. È morto, eh? Un RAPS. 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 Abbastanza, mani da fa malissimo, ragazzi. Nida, se non me la gestisco, fa malissimo. Arriva l'ulti di Brock, la sbagliata. Easy, gang. scoppiate quando i morti gioca con torte che se fa l'ho fatta l'ho fatta tutto il mio dio la mappa tortelle chi l'hanno tutti tortelli villato tutti io regalo lo so che è successo ammazza devo fattere tutto tuo sale fatto lo devo rischio ai ragazzi del terzo che lonti team no però non ci fermiamo c'è non ok l'ho ammazzato mamma mia che ragazze un animale per secondo me è tutta la stella è tutta la stella tutta la stella un fenomeno quanto vai che partita facciamole subito un'altra let's go mancano 10 coppe vero sì sì 90 mamma mia eccolo la precisione un primo posto sono due partite sono due partite riposte da dieci coppia tenendo da 9 un più 7 un più 9 oppure 2 più 9 guarda che spawn molto meglio rispetto a quello di prima era abituato con il grado basso attenzione bravo che spacchi le candele non so se lo sai ma se spacchi le candele torte il corone diventa più forte te lo giuro che segnavi di volte 300 voglio il giocatore uguale su firma la stessa cosa è esattamente come muriel e di ricordi muriel mamma mia che animale adesso per morire torteghi lo dico ma la mia scuola chi sta in fase o però mi sono morti sono morto io però occhio attento spikes tagliali il muretto bravo cerca di non andare a affidare cosceli mi sa che c'è un proverso però non ti esporre troppo e lo c'era di dottimo esiste un secondo ragazzi dobbiamo fare qualche taglietto credo ragazzoni siamo tornati tagliettino tecnico veramente in post produzione e via ragazzi che si inizia la cosa bella e adesso mancano nove coppe quindi con una prima posizione chi devo tutto pulito apriamo le casse mamma non vedo l'ora tutto quanto per le casse poi se questo dovete sempre saperlo la gamma mi sa che voglio gli abbiamo detto di lasciar pollicione a raga se non lasciate un pollicione al comeback di grax sul cane tortello non sono più che altro mi deve porta fortuna ragazzi voglio il leggendario dai lo vogliamo io non la porto a lui per avere volta a me per forza beh diciamo vengo da un box opening sul canale mio abbastanza importante quindi sono l'ospicciato l'ospicciato attenzione bene guarda con il primo tirai e bomboni tirai il pacco regalo fatte sentivo il pacco regalo occhi alle ore che diventa invisibile fermo vieni qua vieni con il quale c'è non si arriva sta arrivando via 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 ok bravo dai non ci credo oh my god colt e di fa un lavoro un enorme lì a me sta alla gara vita 3 2 1 il bomber è pazzesco ma non riusciamo a fargli male va bene va bene 3 squad chi ha il dalla mike a prescindere da ora vince dai dai sì non molliamo non molliamo col più se non andare da derryl col più sette non ci fanno niente come facciamolo a togliere volte è troppo forte è troppo cicciotto se va giù scelli però cambierebbe la situa arriva beryl basta che non viene da me ecco lì ti rombo bravissimo il torti quando fosse la sera ora vabbè la cosa bella è che mo ci mancano due coppie più o meno coppettine quindi possiamo fare un'altra e poi che ha 7 scusate ragazzi il rallentamento un po complicato però abbiamo comunque giocato 12 mila 999 ne manca una eccoci una coppa una coppa ragazzi se ci piace adesso sponde prima sponde un po un po mistico prima prima erano tutti classi ma una questa seppre c'è sta bea wait bea stati accorto bea stati accorto questo lo prendo io quelli al centro lista frega baby ma baby non me la so sentire che perché non me la so sentita è attento tanto c'è ragazzi tortello mi ha confidato che non gli piace la paperella ma come non ti piace la paperella se ne so accorti anche gli iscritti che purtroppo non l'ho comprata io avevo detto che di leone compravo tutto però cioè onesti no ma da uno squalo e un lupo mannaro me poi caccia fuori una paperella ma è simpaticissimo almeno nel primo brown no sì allora quello lì è figo è figo però però non mi fa la musichetta quando fai veramente di la propria io faccio delle cose meraviglio io ho fatto delle cose pazzesche e poi chi l'arte di tutti e 12 paura però visi è instant 614 c'era anche una sinistra però bella ciò sta pochia la testa da nucleare sopra sopra bravissimo tanto rinasco io guarda che predict sulla testa quanto va il torti quanto va chiudiamo questa win chiudiamo questa win no 69 mamma mia guarda un po che situazioni vai no a speri prendi life esatto però se ti diri la bombone comunque non ce l'ho riprendi life riprendi life no riprendi life c'è pochissima vita se prende una bombetta di devasta nice la fight continua ragazzoni la fight sta continuando c'è una penny max che la devi leggermente indebolire io che mi invento puoi gestirla solo del bravo notti io sono morto però è fatto lo show in questo voti è un'ottima mai che detto da non sono un top però gioca molto spesso dalla mike torti vai ragazzi è arrivato il momento allora a parte che prendo immediatamente loro cioè subito questi 300 di oro boni come il pane e mo a ruota a ruota apro subito la violaccia perché loro già lo sanno a me la violaccia non piace proprio non piace per niente oro bea 34 bea e via che si inizia 48 case per loro è 40 ripeto a manetta terza parte del chest opening è un pazzesco te prego te prego io intanto sto guardando il profilo dei torti gli mancano tre brule ragazzi tre bro e ma infatti non riesco a capire perché non mi faccia trovare cioè onesto tre leggendari questi 51 cinquantina di caso sicuramente riesco a collezionare tutte le carte almeno questi nuovi però è comodo per max in anche se devo dire che mi sono trovato meglio come è perché quella petta guarda che molti di vuole max in scazza la dono potenziare no ma sulla ma sulla modalità nuova è atomica a me piace veramente da certo se la giocavo in football è legale però già in partite più serie tipo raffa gemme non è che va vide tanto niente qui non mi sta riesce direttamente il brawler invece mi sta coltivando ecco scelta gemme oro due per tanto oro è 87 per un paio di bagate 87 ecco qui 64 addirittura bene io ho preso lo spoiler mamma mia te prego bocca tua santa lo spoiler se scappa se scappa adesso 27 casse no no io non impazzisco leggendari impazzisco abbiamo trovato le gemme ancora 25 casse per loro eh attenzione Sì siamo a metà Sperato anch'io ragazzi grazie non succede ragazzi ma se succede attiva di quanta percentuale hai la vado a vedere Alla ventesima cassa ecco stiamo a 21 ma la vado a vedere facciamo aumentare un po' la suspense Allora stiamo alla bellezza della percentuale per il leggendario 0,151 E' altissimo 0,151 poi abilità stellari vabbè un per cento e 0,4 vabbè Relativo relativo Dai venti casse te prego te prego st'uno per cento fallo fallo scappa fuori Se becco aziendi è addormentato lì perché veramente Tipo una cassa su un leggendario su 750 casse Dai sto vola sto vola Ma la trovo Sono vecchi Ma dai te prego te prego te la far tu La possiamo fare tutti Credici anche te credici Ma lo so una star power qualcosa Eh anche la star beni Però ecco mi sta a dare gemme Non è che ci sputo però Non succede ma dai dai la star è qui la star è la star voglio Mannaglia Regà dieci casse rimanenti I sogni si stanno per infrangere Sia mai detta l'ultima parola a queste ultime otto casse Mamma mia La speranza dell'ultima muore da te Io ce credo ce credo perché se succede il top Perché se succede il top Vi sto sintonizzando dai Te prego te prego voglio vedere Voglio vedere che gira Voglio vedere che gira Quanto lo voglio vedere che gira Voglio sentire la musichetta Io non faccio sentire niente Voglio vedere solo che gira Te prego Ultime due casse ragazzi Ultime due casse Aspetto la scritta Lasciate un like e iscrivetevi Adesso adesso aspetto la scritta Aprimi anche dell'ultima Non succede ragazzi The last Non lucca per lui Vai Niente 72 Maxine E ciao Tre biglietti e venti Ci rifaremo la prossima volta Torti La prossima volta Lo faremo E troveremo Questo signore qua Mamma mia 300 casse aperte Nell'arco di tre giorni E sul leggendario Zero Zero di zero Però adesso c'è una percentuale buonissima Ah ci credo Ci credo Per forza Dovrà uscire uno su Va bene ragazzoni Io direi che per questo video è tutto Ringrazio a tutti per aver visualizzato fino a questo momento Ervidiozzo Amareggiati Però contenti ragazzi Perché ci riproveremo Comunque Ci riproveremo Assolutamente Restate sintonizzati Ringraziamo qui il pazzo Crax Che ci è venuto a dare la sua fortuna Ciao ragazzi Buone feste Ciao a tutti A curi Ciao ciao boys Un saluto al babbo Taina Beh porta un sacco di regali Quelli che non ha portato a me Bella Ciao